e benvenuti monarchici assoluti chi gioca stasera chi gioca stasera chi giocherà usiamo bene i tempi verbali monarca chi giocherà chi giocherà stasera chi sarà titolare ultimi dubbi per il demone di piacenza il nostro simone inzaghi allora li avete visti dalla copertina ma ve li dico anche adesso ovviamente e c'è anche un altro mio dubbio che non vi ho messo in copertina allora d'un frisso d'armian come esterno a tutta fascia destro e defray o acerbi come centrale della difesa a tre il resto è già fatto non sto ma ve lo ripeto perché qua per quei quattro che vivono su marte sommere in porta bastoni braccio sinistro braccio destro pavar esterno a tutta fascia sinistra di marco centrocampo il nostro trio di fenomeni barella ciala e mkhitaryan in attacco la tula turam lautare quindi d'un frisso d'armian sappiamo tutti ragazzi d'armian quando gioca esterno a tutta fascia non ha tutta questa spinta in avanti o quantomeno si butta in avanti per carità si propone meno di dunfris ma diciamo che non ha la sua mh imponenza fisica l'esplosività che ha il nostro denzel ok ovviamente d'armian è più esile detto questo però guadagna in difesa detto che dunfris a difendere abbastanza forte d'armian è fortissimo tant'è vero che ormai a mio avviso il vero ruolo di d'armian in cui rende di più è il braccetto destro dice pavar per capirci e e quindi con d'armian perderemo un po' di spinta ma soprattutto cosa perdi il contropiede perché considerando che loro ci verranno ad attaccare anche nonostante il fatto che simeone sia l'anticalcio difesa e contropiede che non è vero un cazzo che hanno cambiato modo di giocare perché le abbiamo viste a milano hanno messo l'adobus davanti alla porta quindi continueranno anche quel modo però comunque sono sotto di una zero giocano in casa ci verranno ad attaccare quando ci attaccano ragazzi chi sono i più forti a fare contropiede da noi a scattare turam barella dunfris e di marco questi sono i più forti e il contropiede ovviamente lo lanciano chi i più bravi ciala michi bastoni sono quelli che danno la palla no ve la faccio semplice semplice quindi in previsione di come andrà la partita loro che ci attaccano e noi che ripartiamo io dunfris non lo toglierei mai ce lo farei giocare dall'inizio punto è chiuso poi siamo meno forti in difesa e amen ragazzi amen anche dunfris sa difendere bene ma io metterei titolare dunfris tant'è vero che il demone di piacenza dalle ultime indiscrezioni si dice che possa mettere lui poi vai a capire chi indovinerà però io metterei dunfris tutta la vita anche perché e qui vi faccio vedere andiamo sul campo sapete che a me piace tantissimo questo questa è la formazione dell'andata come ci hanno affrontato all'andata loro sulla sinistra c'hanno ermoso e samuellino ma soprattutto a samuellino ragazzi è un ala un ala che giocava alta per capirci il ruolo di leao che si bevano è voluto adattare a esterna tutta fascia per farvi capire un po' lo stesso percorso di perisic vi ricordate no perisic è partito quattro del tre alto a sinistra poi conte e dopo anche in zaghi l'hanno fatto diventare un esterno tutta fascia sinistra ora perisic era un decatleta quindi riusciva anche a difendere benissimo stolino assolutamente no non difende bene ermoso men che meno perché ermoso non è un vero braccetto sinistro non è un vero centrale era anche lui un esterno più da difesa a quattro magari che poi è stato stretto in mezzo quindi da questo lato dunfris nelle ripartenze gli potrebbe fare male parecchio ragazzi quindi tutta la vita dunfris titolare altro dubbio acerbi e defray allora sappiamo che nell'ultimo anno e mezzo il titolare è stato acerbi grandissime prestazioni del nostro francesco ci ricordiamo tutti in finale non ha fatto vedere palla ad alan qualunque attaccante abbia incontrato anche in serie a di quelli cosiddetti forti non gli ha fatto vedere palla però viene da un infortunio è rientrato a bologna io l'ho visto un po' affaticato ragazzi in queste partite qua tu devi essere al top 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 della forma anche perché da marcare ci avrai morata o griezmann uno dei due più probabilmente morata perché griezmann magari giocherà un po' più indietro quindi devi essere bello scattante sul pezzo e il nostro acerbone viene dall'infortunio che un po' vuoi non vuoi di condiziona e visto che dietro di lui c'è un difensore altrettanto valido anzi parentesi defray fino a prima di quel derby disgraziato dell'anno che ci costò lo scudetto quel derby della famosa doppietta di girù defray era uno dei centrali più forti d'italia a livello difensivo e a livello di impostazione poi dopo quel derby è caduto in una profonda depressione probabilmente anche rinnovo del contratto ha influito ma da questa stagione io lo vedo il defray tornato ai suoi livelli e il defray dei suoi livelli non ha nulla da invitare ad acerbi anzi il defray dei suoi livelli è più forte di acerbi ragazzi quindi visto che defray informe acerbi no io schiererei defray poi se giocasse acerbi nulla da dire evidentemente il demone di piacenza vuol dire che lo ritiene in forma pronto ed integro ad affrontare una partita del genere ma se la forma non è massima io monarca schiererei defray tutta la vita e adesso veniamo ragazzi a un dubbio che mi sapete quei tarli che ti arrovellano il cervello sappiamo tutti che da qualche giorno è iniziato il ramadan per chi non lo sa per chi non lo sapesse il signor aghan chalanolu è islamico musulmano e pratica il ramadan per quei quattro che vivono su marte e non sanno cosa sia il ramadan è una pratica religiosa musulmana che prevede che dall'alba fino al tramonto non puoi né mangiare nulla né bere nulla neanche l'acqua ora questo debilita parecchio figuriamoci poi uno sportivo che perde una marea di sali minerali correndo sudando allenandosi che deve assolutamente reintegrare in più a tutto questo ciala arriva da un bell'infortunio anche lui e a bologna che ha fatto un'oretta di gioco l'abbiamo visto ovviamente in ritardo non è il solito ciala che si proponeva si faceva dare palla lanci testa sinistra no non ho visto neanche questi contrasti davanti là di recuperare la palla no aslani ragazzi sta giocando benissimo certo c'ha quel problema che quando viene pressato per esempio il secondo tempo che ha fatto a a genoa a me non mi è piaciuto per nulla il gol preso è colpa sua perché perde una palla sanguinosa io sto dubbio ce l'ho ragazzi cioè in senso c'ha la nolu in forma non c'è nessun dubbio gioca c'ha la nolu c'ha la nolu che viene il dubbio mi viene volendo c'è pure l'opzione mkhitaryan davanti alla difesa con barelle frattesi mezzali perché no se non ci fidiamo di christian in una partita così importante però io fossi nel demone un pensiero su questa cosa ce la farei o comunque terrei tanto sott'occhio ciala nell'allenamento di questi giorni ma proprio tanto sott'occhio ci parlerei perché ragazzi noi voi lo sapete io sono sempre stato sicuro della nostra inter e sono sicuro di passare ma c'è un se grosso come la casa noi dobbiamo essere in forma e giocare al massimo quindi l'inter che è in forma e gioca al massimo l'atletico che è in forma e gioca al massimo passa l'inter se l'inter non è in forma non sono tutti i protagonisti in forma e non giocano tutti al massimo allora lì ci sono problemi perché l'atletico non è la salernitana è l'atletico ragazzi chisman morata depol eccetera 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 quindi io un ragionamentino ce lo farei fatemi sapere cosa ne pensate voi iscrivetevi al canale cliccate prima su iscriviti subito dopo sulla campanella selezionate tutte in modo che verifino i miei video per quando faccio appunto le le mie notifiche per quando faccio video per quando entro in live live che ovviamente ovviamente ci sarà stasera subito dopo la partita io faccio il video post partita e poi partiamo 23 15 23 30 saremo qui a goderci post partita e basta quindi vi aspetto inutile inutile ricordarvelo detto questo ditemi la vostra nei commenti il nostro solito salute latino vide te mox forza inter sempre amala